Un convegno molto interessante è quello organizzato dalla diocesi di Teramo Atri, soprattutto da Monsignor Leussi. Bisogna ripartire e lei è venuta molto volentieri anche per far capire che bisogna ripartire e crederci. Beh, diciamo che il percorso che abbiamo fatto in questi mesi ha consentito di programmare tanti interventi sulle opere pubbliche. Penso per esempio a una questione che a Teramo stava molto a cuore, quella sull'edilizia residenziale pubblica. ha consentito di finanziare chiese, tutte le scuole, gli edifici comunali, consente di finanziare anche gli interventi di disesto idrogeologico, ordinanze che approveremo entro la fine del mese. Io credo che stiamo mettendo nelle mani delle amministrazioni territoriali tutti quelli che sono gli strumenti per poter agire e anche la nostra disponibilità ad accompagnare in mezzo a mille difficoltà che conosciamo questa ripartenza. Abbiamo emanato l'ordinanza 46 che è quella della semplificazione della ricostruzione privata e nei prossimi due mesi vedremo se effettivamente questi strumenti servono anche ai privati cittadini per costruire più velocemente. Detto questo bisogna crederci nel senso che bisogna essere consapevoli delle opportunità e dei diritti che cittadini e amministrazioni hanno. E dopo questa consapevolezza bisogna partire anche con grande determinazione, consapevoli che ricostruire delle comunità così ferite non è una cosa semplice e tutti i giorni emerge un problema. Però io credo che la vicinanza dello Stato centrale, del Governo e del Parlamento a questi territori sia veramente molto concreto e ho provato a raccontarlo oggi grazie all'aiuto di Monsignor Leuzzi. Commissario, a Terramo ci sono delle polemiche per il fatto che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione abbia portato avanti fino ad adesso solamente due pratiche per la ricostruzione privata a differenza delle vicine marche che sono molto più avanti nelle pratiche evase. Che si può dire al riguardo? Beh, quello che dicevo prima sull'ordinanza 46. Noi abbiamo riscritto sostanzialmente tutta la procedura di liberazione delle richieste di ricostruzione. dalla preistruttoria, che è sostanzialmente la fase nella quale il professionista si confronta con l'Ufficio Speciale per dire farla così, farla in questo modo piuttosto che in altro, fino al fatto che il professionista arriva già alla fase della domanda sapendo più o meno quanto sarà il valore del contributo perché gli mettiamo nelle disponibilità l'algoritmo. Dicevo, diamoci tempo due mesi per capire se effettivamente quelle soluzioni vanno nella direzione della indicata e cioè rispondere rapidamente alle richieste. Dico due mesi perché l'ordinanza è stata registrata dalla Corte dei Conti il 18 di gennaio e quindi mi auguro nell'arco di qualche settimana che la sua realizzazione dia i risultati che tutti noi ci aspettiamo. Con l'umiltà di sapere sempre che se c'è qualcosa d'altro da correggerlo, correggiamo. Grazie. Grazie. Grazie.